Per preparare le linguine al pesce spada, cominciamo pulendo il pesce. Togliamo la pelle e l'ossicino centrale. Lo tagliamo a tocchetti, lo infariniamo leggermente e mescoliamo. Rosoliamo l'aglio a pezzettini insieme al peperoncino. Aggiungiamo dei pomodorini tagliati a spicchi e il pesce spada infarinato. Sfumiamo con il vino bianco e saliamo. Portiamo a cottura la pasta e la aggiungiamo al sugo. Mischiamo per bene e impiattiamo. Aggiungiamo la granella di pistacchi e una fogliorina di menta.